Giudi, cosa sta succedendo? Oh cavolo, ce lo sono ripreso! Quella strozza! Figlia di una grandissima stronza! Maledetta! Dottor Kleiner deve fermarla! Fanculo! Oh mio Dio! Che coordinate sono queste? Dove il diavolo l'ha fatto finire? Beh che... Attivano le torrette, cosa se le metto? Devo aspettare il portale! Veloce! Mi attiva il... ok! Affronta qualche torretta! Io lo so! Viva! 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 Grazie a tutti. 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 Ah, fa... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non so... Grazie a tutti. Oh no. Non so... Ah... So... ... ... ...